Una storia a lieto fine che comincia a Pescara e si conclude a Gorizia. Una giovane ragazza bulgara di 21 anni viene caricata su un furgone e dunque sequestrata da due connazionali che hanno intenzione di portarla oltre confine. Grazie all'aiuto di un'amica della giovane però il piano dei due viene fortunatamente bloccato. I bulgari di 43-35 anni vengono arrestati a Gorizia dalla polizia. Sono accusati di sequestro di persona e sfruttamento della prostituzione. Decisiva la collaborazione tra le varie forze di polizia dall'Abruzzo al Friuli Venezia Giulia. Il capo della mobile di Pescara, Dante Cosentino. Sequestro di persona sventato, tecnicamente consumatosi perché la ragazza è stata caricata con forza su un furgone e ha viaggiato diversi chilometri. Per fortuna siamo intervenuti come polizia di Stato perché è stato uno sforzo, dicevo prima, corale con l'apporto determinante della Procura della Repubblica di Pescara. Siamo intervenuti prima che la ragazza venisse portata oltre confine, quindi verso un destino che dà contorni assolutamente incerti. Nel pomeriggio di domenica l'amica della vittima di sequestro segnala al 113 quanto accaduto alla 21enne. Condotta negli uffici della Questura, la ragazza racconta di aver ricevuto dei messaggi dall'amica, la quale, spaventata, le riferisce di essere stata costretta a prostituirsi nei pressi della pineta dannunziana a Pescara e che è stata caricata su un furgone di colore nero con targa bulgara. Grazie alle foto inviate sul cellulare dalla 21enne all'amica, i poliziotti hanno rintracciato il furgone in viaggio. La Procura della Repubblica di Pescara ha subito disposto l'intercettazione telefonica della vittima. La localizzazione del dispositivo ha consentito di tracciare la direzione comunicata alla Polizia Stradale, alle squadre immobili e agli uffici della Polizia di Frontiera di Gorizia e Trieste. I due cittadini bulgari sono stati arrestati e la ragazza ora è al sicuro.